Devo solo trovare Ulke e andarmene. Che cos'hai lì, scricciolo? Che ne dici di lasciarlo a me? Non credo proprio. Che peccato. Bentornato nel regno dei vivi. Non hai un bel aspetto. A tutte le unità, trovate la ragazza e non mettetevi in mezzo. C'è qualcosa di sbagliato in te. Qualcosa di diverso. E vanna lì dentro di te, vero? Il suo remorso. C'è qualcosa di sbagliato. Non sei riuscito a liberarti di Banner e a uderti ma a lui. Ora sei bloccato nel mezzo. Non scendio non è privo di ragione. Ho un regalo per te. Forse non sei uno scimmione dopo te. E' una parola troppo gentile per un essere grottesco come te. Ho trovato la piantina dell'archivio. Credo di poterti raggiungere. Non vedo l'ora che lei si unisca. Sei... Lo senti? Qui c'è il potere. Qui è dove mi sono evoluto. Non vedo l'ora che io abbia mai. Viva! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Fa silencio! 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 Fa silencio!